Emozione a non finire sabato sera a vittoria al palazzetto tra Camarini e Corazzata Grigento, capolista schiaccia sassi del girone. In vantaggio per 2-7 a 0, il sestetto di Azzara ha commesso forse l'errore di sentirsi la partita in pugno senza avere fatti i conti con un avversario costruito per la promozione e zeppo di atlete di una categoria superiore. Così dopo il 25-19 il tiratissimo 25-23 che avevano autorizzato la possibilità di mandare per la prima volta al tappeto l'imbattuta capolista, il sestetto ospite si è ricompattato ritrovando quasi di incanto gli automatismi smarriti. È un gioco lineare che non ha lasciato scampi alle atlete ipparine. Una rimonta poderosa cominciata dal 17-25 del terzo set, proseguita col 21-25 del quarto e poi a completare la rimonta al tie-breaking in maniera abbastanza agevole, 8-15, un punteggio a significare in pratica la pressoché totale resa degli atleti locali che avevano speso però parecchio nei primi due saltanti set. Una gara bella e spettacolare, stavolta il pubblico sempre numeroso e soprattutto caloroso, non è riuscita a trascinare le atlete di casa alla vittoria. Sarebbe stata però un'autentica impresa, visto lo spessore tecnico di un avversario destinato a volare in B1.